salve a tutti allora ehm diciamo abbiamo un minimo di eh di tempo disponibile per fare una brevissima da parte mia così eh introduzione proprio alla diciamo a una sezione che ha diciamo un profilo un pochino più prosaico forse no? Un pochino sulla norma, sulle normative, sugli aspetti eh diciamo che consentono oggi la tutela sia del diritto d'autore e sia della tutela anche degli immobili di cui trattiamo. Allora un po' lì semplicemente uno spunto iniziale poi ovviamente lascio subito la parola ecco la direzione eh anche quando lavoravo in direzione generale creatività contemporanea si era ripresentato tra tra gli altri il tema eh generale del delle dei modi eh possibili di tutelare il il contemporaneo, l'architettura contemporanea. Allora da una parte abbiamo nella legislazione vigente il riconoscimento del del carattere artistico, dell'importante carattere artistico e quello della 633 che conosciamo tutti perché poi è in materia eh specifica proprio della direzione generale creatività contemporanea. Abbiamo poi eh il diciamo il il classico eh strumento eh della dichiarazione di interesse culturale che è quello del codice dei beni culturali dall'articolo dieci con le sue varie declinazioni no? Particolarmente importante, eccezionale, eccetera e quindi parliamo di interesse culturale. E poi eh il tema un pochino forse più stimolante che eh abbiamo dovuto affrontare e abbiamo tuttora aperti dei quesiti che facciamo a suo tempo anche al nostro ufficio legislativo perché non è facile chiaramente la risposta è il rimando a un terzo livello di possibile strumento di tutela che è quello del riconoscimento del particolare valore artistico che viene menzionato nell'articolo trentasette del codice ed è ehm diciamo in realtà quello che resta di eh un diciamo di un di uno strumento un pochino più ampio che era stato pensato inizialmente dagli autori del codice cioè diciamo nel duemilaquattro esce il codice chi aveva pensato appunto a questo codice aveva parallelamente in corso eh una una proposta di legge in corso di approvazione per la tutela dell'architettura contemporanea questa legge poi non è più andata avanti ce ne sono state altre nel tempo e quindi non è stata la prima e eh l'articolo trentasette è ciò che rimane di questa iniziale proposta abbiamo ancora gli atti del senato eh cose della della prima metà degli anni duemila ecco del primo decennio del dell'attuale secolo quindi eh lascio ecco una riflessione generale così come spunto poi ovviamente la parola adesso ai vari relatori e quindi in eh cominciamo con Giulia Dore la normativa di grazie buon pomeriggio a tutti sono Giulia Dore dall'Università di Trento e dove mi occupo di diritto della proprietà intellettuale in particolare diritto d'autore e diritto d'autore d'arte e inizierò la mia presentazione e facendo qualche breve premessa metodologica allora io innanzitutto mi sono occupata nel mio piccolo in questa grande importante eh ricerca di fotografare il quadro normativo che appunto attiene alla tutela la valorizzazione dell'architettura contemporanea un compito devo dire non semplice perché ha richiesto un esercizio interdisciplinare particolarmente importante e faticoso questo perché ehm nel per chi si occupa di diritto d'autore l'esercizio interdisciplinare è è normale ecco è automatico implicito nella nella nello studio nell'attività di ricerca ma in questo caso il confronto con con l'ambito delle dell'architettura delle eh opere della dell'architettura rendeva questo esercizio un pochino più complesso e vi spiegherò nel nel dettaglio perché sicuramente un esercizio interdisciplinare anche interno alla mia stessa disciplina quella giuridica perché eh ha richiesto il superamento del del tradizionale confine che esiste tra a chi si occupa della dimensione pubblicistica e chi si occupa della dimensione privatistica e infatti io mi sono da subito confrontata con questo importante eh scoglio anche metodologico ed interpretativo ehm alcune note sul ancora sul metodo allora è importante eh premettere sin dall'inizio che la mia è stata una ricerca apprettamente l'ho detto anche e alla collega prima dogmatica teorica quindi non ha nessuna non è non ha contemplato una una un'indagine nello specifico empirica che però spero sarà condotta nei successi sviluppi di questa di questa ricerca l'arco temporale è abbastanza definito e diciamo che è anche molto ampio rispetto alla alla allo spazio temporale di cui un giurista generalmente si occupa nella propria ricerca e ci sono delle eh delle differenze importanti che sono emerse in questo studio storico eh che verranno poi evidenziate. Ultimissima premessa metodologica riguarda a quella che è stata la banca dati a supporto di questa ricerca che attualmente non è è ancora a tutti disponibili ed accessibile ma questo per ragioni che sono intrinseche al diritto d'autore stesso nel senso che come sapete tutti il diritto d'autore si fonda su un principio di esclusività a che è molto forte quindi laddove i testi sono protetti dal del diritto d'autore mi riferisco in particolare alle opere della dottrina queste non possono essere condivise se non sono espressamente in accesso aperto. Lo stesso vale per le pronunce per quanto questi siano in pubblico dominio una volta che sono pubblicate nelle riviste la rivista stessa è protetta quindi come opera letteraria e questo appunto spiega il limite rispetto alla disponibilità del test integrale no che compongono questa questa banca dati. Allora perché vi dicevo il mio compito è stato un compito abbastanza difficile molto interessante ma anche complesso perché mi sono trovata a studiare un quadro normativo di per sé molto articolato che appunto si poggia su due pilastri fondamentali che sono il pilastro la dimensione pubblicistica e la dimensione privatistica. Premetto che il rapporto tra queste due dimensioni in generale non è chiaro quindi questo non riguarda solo le opere dell'architettura ma riguarda tutte le opere dell'ingegno che di volta in volta attraggono la disciplina pubblicistica ma che non il cui rapporto non è sempre chiaro non è spiegato dal legislatore e questo spinge l'interprete a porsi sempre nuove domande a proporre delle soluzioni che però non sono mai univoche e creano incertezza quindi questa è una premessa importante da fare. Ho notato sin dall'inizio del mio studio della mia ricerca che esiste e questo è stato confermato da tutti voi durante questi due giorni una forte sensibilità a livello sovranazionale verso la tutela e la valorizzazione dell'architettura e questo lo notiamo in molti documenti programmatici in cosiddetti documenti di strumenti di soft law che incoraggiano la tutela e la valorizzazione e da ultimo la convenzione di faro che molti avete citato che rimane però una convenzione quadro che non impone nessun obbligo specifico agli stati ma li lascia liberi poi di di declinare quelli che sono alla fine dei suggerimenti no degli obiettivi che devono essere per sé perseguiti ma non viene detto in che modo questi debbano essere perseguiti questo può essere un bene o un male lo vedremo ci sono stati dei tentativi a livello nazionale e istituzionali e sono stati anche citati dei disegni di legge che poi non sono diventati legge che riguardano appunto la legge quadro sulla valorizzazione della qualità architettonica non entro nel nel merito dei meriti e demeriti di questi di questi progetti né della legge in sé della sua finalità però tengo bene appunto dare atto del fatto che anche a livello nazionale questa sensibilità sovranazionale sia in qualche modo o emersa per quanto riguarda il contesto invece appunto nello specifico nazionale e operativo quindi la legge effettivamente in vigore dicevo la disciplina è duplice quindi il diritto d'autore da una parte il codice urbano quindi la normativa sulla sulla tutela dei beni culturali dall'altra ora partiamo dal primo pilastro quindi tenderò appunto a suddividere queste queste due dimensioni a cercare quindi di disolarle per quanto vedremo spesso si si intrecciano e si intersecano allora per il diritto d'autore l'opera dell'ingegno e quindi questo vale anche per le opere dell'architettura è tutelata solo se quindi a condizione che sia creativa originale questo è un punto fermo del diritto d'autore che bene appunto valorizzare e tener presente perché sia oggi che ieri sentivo e notavo con con curiosità con curiosità l'utilizzo del termine autorialità l'autorialità riguarda tutte le opere dell'ingegno e quindi anche un riferimento così preciso così esplicito ad un'opera che può essere tutelata valorizzata solo perché autoriale è impreciso dal punto di vista del del giurista quindi tutte le opere che siano originali e creative quindi siano un risultato delle 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 espressioni creativa del del suo del suo autore sono tutelate il problema però è un altro e vedremo esistono delle differenze per quanto riguarda alcune opere dell'ingegno che in qualche modo toccano anche l'ambito architettonico la difficoltà sicuramente maggiore in questo studio è tener presente che l'opera dell'architettura è un'opera poliforme e nel senso che l'opera dell'architettura può essere può essere tante cose può essere il progetto di opera architettonica e sicuramente il disegno il rendering opere mobili o immobili vedete quindi è molto variabile l'oggetto a differenza di altre tipologie di opere dell'ingegno che invece sono più definite no più contestualizzate se vogliamo e poi e lo metto lo metto come ultimo esempio può essere anche un'opera di di interior design e questo pone delle degli interessanti problemi interpretativi che suggerirò nelle mie nelle mie conclusioni sicuramente sono tante le regole da applicare tanti i principi non spesso questi non sono chiari non sono chiari per la generalità delle opere dell'ingegno ma ancora di più per per le opere dell'architettura intanto per esempio e qui faccio un primo suggerimento che spero verrà recepito anche per i successivi sviluppi di questa ricerca se è inquadrata come disegno industriale allora la legge richiede un requisito ulteriore a quello che vi ho detto prima essere il requisito fondamentale di tutela del diritto d'autore cioè deve possedere un valore artistico che alcuni autori in generalmente definisco anche carattere artistico e vedete quindi qui il richiamo alla parola carattere artistico è evidente no e quindi verrà poi spiegato meglio con riguardo alle opere dell'architettura se è un progetto di ingegneria quindi più sussumibile in questo senso allora riceverà una tutela più limitata sono delle differenze che sembrano sottili però sono importanti quindi a seconda di come qualifichiamo l'opera allora operano delle delle regole diverse in diritto d'autore sicuramente come tutte le opere dell'ingegno anche l'opera dell'architettura quindi opere e disegni dell'architettura spesso per per semplificare userò la parola opere dell'architettura ma è chiaro che io qui intendo anche i disegni dell'architettura attirano una tutela duplice quindi vi è naturalmente riconoscimento di diritti morali e quindi innanzitutto il diritto di paternità e di integrità ovvero il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione che sia lesiva del proprio onore o reputazione questo è il contenuto del diritto di integrità diritto di pentimento un diritto personalissimo che consente di fatto il ritiro dell'opera dal commercio e che rappresenta un unicum se vogliamo nel se guardato nel panorama del del diritto d'autore a livello internazionale e infine il controverso diritto di inedito quindi sicuramente l'opera dell'architettura attrae questa questa tutela morale però attrae anche ovviamente una tutela patrimoniale quindi sono riconosciuti tutti i diritti economici che sono riconosciuti a qualsiasi opera di un ingegno il problema e quindi qui entra in gioco la singolarità dell'opera dell'architettura e che è in questo caso specifico che i diritti morali in particolare diritto di integrità un diritto fortissimo lo ricordo nel nostro ordinamento diritti morali sono perpetui quindi vanno oltre il termine del diritto d'autore economico sono indisponibili quindi non possiamo disfarci di questo di questo fardello di questo di questo diritto sono intrasferibili e in questo nel in questo particolare caso delle opere dell'architettura subisce una prima importantissima compressione cosa che non succede per nessun'altra opera dell'ingegno e quindi questo è un primo segnale che questo oggetto di studio è un oggetto molto particolare no subisce una compressione importante perché perché di fatto l'autore che generalmente per quanto riguarda le altre opere dell'ingegno può porsi a qualsiasi dico qualsiasi modificazione modifica all'opera che di fatto risulti in un pregiudizio il suo onore e reputazione e badate nel concreto questo si traduce in una miriade di situazioni no dalle dalle più semplici a quelle più complesse in questo caso non può opporsi alle modifiche che è chiaro sono delle modifiche necessarie quindi questa questo aggettivo è molto molto importante che venga evidenziato necessario in corso di realizzazioni successive salvo e questa è la diciamo la salvezza dell'autore se siano riconosciute avere un importante carattere artistico e qui casca il palco perché per per il giurista per le per l'interprete eh di di diritto questo è un primo importantissimo problema eh siamo abituati a pensare che tutte le opere dell'ingegno siano uguali no quindi sia debbano essere sulle poste sullo stesso piano meritino la medesima tutela eccetera e siamo anche abituati a pensare come principio generale che diritti morali non siano mai comprimibili invece qua abbiamo un caso in cui uno il diritto di integrità viene compresso e poi abbiamo una specificazione di quello che è un un elemento che non abbiamo visto eh essere considerato per altre opere dell'ingegno fuorché per le opere di disegno industriale e qui ritornerò rispetto al collegamento che faccio tra opere dell'architettura e opere del disegno industriale quindi cosa può potrà fare l'autore di fatto se dimostrato che l'opera abbia un importante carattere artistico potrà di fatto studiare attuare partecipare l'attuazione di queste modifiche ok perché è così è così importante eh questo questo riconoscimento perché è così problematico per per il giurista intanto come vi dicevo perché rappresenta un unicum e poi soprattutto perché il il riempimento di contenuto di questo concetto è diverso è difficile è molto difficile da gestire per il giurista è già difficile determinare che cosa sia creatività e quindi cosa sia quale sia il carattere creativo ancora di più è difficile comprendere cosa si intende appunto con questo riferimento all'importante carattere artistico è evidente che questo riferimento implica il coinvolgimento di saperi che sono diversi dal diritto che nel diritto d'autore è è norma e consuetudine no riferirsi ad altri saperi quindi cercare quel dialogo dialogo interdisciplinare di cui parlavo però in questo caso ci rendiamo conto come il giurista in particolare il giudice di fatto lasci la parola interamente all'esperto alla comunità di esperti perché di fatto non è in grado in coscienza di definire che cosa sia il carattere artistico e questo è evidente che crea delle delle conseguenze importanti sul piano anche della certezza del diritto perché di fatto demandiamo ad una comunità di esperti la definizione di un concetto che la legge prevede appunto o che sia che sia rispettato però il giurista si limita semplicemente a deferire quindi a demandare la sua la sua interpretazione e altra cosa importante perché penso che sia uno spartiacque perché ricorda e qua tremano tutti il vincolo pubblicistico perché tremano tutti perché la giurisprudenza si è occupata di questo spesso qua richiamato richiamo una pronuncia del tarlatto abbastanza recente dove dice appunto che deve essere un punto fermo questo non è un vincolo e quindi non può sostituirsi alla dichiarazione di interesse culturale questo non è sempre stato pacifico e chiaro neanche in giurisprudenza ma adesso riteniamo che ci sia ci sia consenso ecco su questo punto il carattere vi dicevo l'ho già anticipato quindi posso scorrere velocemente artistico è un quid pluris di difficilissima applicazione e così lo è per quanto riguarda le opere di disegno industriale però è qua consentitemi di fare un passaggio ulteriore se per quanto riguarda la definizione di quell'elemento del valore artistico richiesto per la tutela delle opere di disegno industriale l'interprete in primis lo studioso ma poi anche il giudice si spingono fino a definire che cosa sia il valore artistico non lo fa per le opere dell'architettura quindi due pesi due misure che secondo me sono importante evidenziare qui non decide di non appunto spingersi oltre e definirlo lascia che sia l'esperto a farlo sicuramente i criteri di valutazione extra giuridici sono all'ordine del giorno però questo non significa considerando appunto che l'approccio è molto diverso per le opere di disegno industriale che il giurista il giudice non se ne debba occupare non debba filtrare questo questo giudizio secondo pilastro e qui andrò molto velocemente perché so che altri se se ne occuperà voglio solo evidenziare quelli che sono i limiti di aspetti problematici ci sono diverse declinazioni di di interesse e diversi elementi o fattori da da considerare anche qui l'incertezza è massima perché anche in questo caso vediamo che si riconosce un'ampia discrezionalità tecnico valutativa delle esperienze delle competenze che di fatto non appartengono alla competenza e appunto al sapere del del giurista che risultano però in notevole incertezza ora si propongono delle soluzioni di compromesso per esempio l'interesse relazionale ma anche questo ha i suoi pro e i suoi contro perché di fatto torniamo al punto di partenza al momento in cui cerchiamo di definire che cosa sia il messo per relazione e ancora sempre dalla prospettiva del giurista badate io e questo che faccio questo può rappresentare un problema sempre a proposito del dell'incertezza di cui parlavo prima sicuramente queste sono le mie note conclusive sono arrivata alla fine si può dire che se il mio compito era fotografare il quadro normativo attuale il quadro normativo attuale è in idoneo inadatto a perseguire quella finalità di tutela di valorizzazione del patrimonio contemporaneo ora quindi le strade sono due immaginare una riforma organica ok del diritto d'autore del del diritto sui beni culturali che vada in quella direzione oppure pensare ad altri strumenti è stato detto è stato sollevato il problema possono esserci altre strade assolutamente nel nel caso di questa piccola ricerca che ho condotto non era possibile compiere un'intagine impidica come vi ho detto prima però è sicuramente auspicabile che lo si faccia perché il ruolo che possono avere i piani regolatori per esempio anche banalmente proprio pensando a questo primo strumento può essere decisivo e può essere quella la strada da considerare ma ora come ora il quadro normativo che io ho fotografato non è idoneo quindi mi aspetto appunto un'integrazione e uno sviluppo che vada in questa direzione grazie grazie da pazienza grazie a Giulia Dora e invito a parlare Maria Clara Ghia in maniera un pochino più specifica adesso sul sul diritto d'autore sì buonasera a tutti io sono Maria Clara Ghia di Sapienza Università di Roma e mi sono occupata in particolare del diritto d'autore appunto mentre si prepara il powerpoint io vi spiego che cosa ho fatto sono grazie anche alla collaborazione all'aiuto di Eliana Garofalo ho passato un periodo in direzione generale e ho potuto accedere a tutti i documenti che spiegavano l'iter procedurale per l'ottenimento della tutela ai sensi della 633 e chiaramente facendo molta attenzione a eliminare tutti i dati sensibili mi sono occupata prima di tutto di riordinare questa enorme quantità di materiale cerco di andare velocemente quindi la prima fase del del mio lavoro è stato il riordino delle fonti archivistiche come vedete è stato un lavoro proprio appunto d'archivio quindi metodico e sono stati rimessi a posto tutti i documenti in delle cartelle ognuna relativa a ogni opera che ha ottenuto la tutela ai sensi della 633 per un totale di 54 opere alla quale si aggiunge l'unica opera il cui decreto è stato sfortunatamente annullato cioè di Palazzo Ras di Ponti a Milano e i documenti una volta riordinati sono per un totale di 412 in queste cartelle che sono vi faccio vedere tutto questo perché lo step successivo la formazione ecco questo spero sia un materiale che potrà essere utile per chi studierà questi casi dopo di me e troverà tutto già in ordine e nello specifico per ogni eh opera eh i documenti sono stati riordinati eh cronologicamente e eh soprattutto vedete anche la quantità di documenti questi documenti scusate mi avevano detto che non si andava avanti indietro in questo modo e io chiaramente l'ho fatto adesso sto tornando indietro in maniera disciplinata ecco questi documenti per ogni eh opera eh sono di diverse tipologie eh decreto istanza verbale lettera comunicazione quindi ho consultato eh le lettere tra soprintendenza e direzione generale eh naturalmente le istanze le istanze presentate dagli autori le istanze presentate dagli eredi le differenti quindi forme di istanza eh e ehm il tutto è stato organizzato attraverso eh questo strumento che Alessandra Ferrighi mi ha messo a disposizione quindi abbiamo eh sviluppato una mappatura ArcGIS eh nel quale nella quale e sto andando indietro stavolta perdono non lo farò più eh nella quale per ogni opera abbiamo messo eh i dati relativi all'opera quindi semplicemente il nome, l'autore, la data, la proprietà pubblica o privata, il link al eh sito del censimento perché la mia la mia ricerca è andata parallelamente rispetto a quella del censimento e tra l'altro ci sono state delle integrazioni in corso tanto del censimento che della mia ricerca è stato utile lavorare in parallelo insomma eh e poi gli estremi del decreto con le motivazioni ma la cosa interessante dove vedete lì allegato uno di quattro si può scorrere eh con quel cursore e eh scaricare chiaramente tutti i pdf relativi ai determinati eh documenti questo è un caso virtuosissimo cioè eh eh l'auditorium Paganini perché eh dopo solo un anno dalla fine dei lavori l'edificio ha ottenuto la tutela e eh i documenti in questo caso sono infatti solo quattro in altri casi sono molti di più questa è un'altra schermata dello stesso della stessa mappatura e eh a un certo punto chiaramente dopo questo lavoro di riordino delle fonti e questo lavoro di mappatura abbiamo iniziato a riflettere su ehm sui procedimenti e sulle criticità eh che si sono eh evidenziate in alcuni casi innanzitutto ci è sembrato interessante capire eh nel tempo come sono cambiate le cose e si vede molto chiaramente da questo schema che eh a partire eh dagli anni cinquanta fino a duemila eh sono pochissime le opere che hanno ottenuto la tutela ai sensi della sei tre tre dal duemila in poi per fortuna questo strumento è stato utilizzato molto di più e speriamo lo sarà sempre di più il dato è leggermente falsato per il decennio leggermente è falsato per il decennio duemiladieci duemilaventi perché di quelle ventotto opere undici sono le Vatican Chapels della eh Biennale di Venezia quindi eh diciamo che è praticamente lo stesso decreto che è stato emanato ecco questo è un uno dei modi di visualizzare la ricerca che ho fatto molto utile eh per esempio guardate sotto il cursore millenovecentocinquanta duemila e venti e guardate cosa succede ecco questa è un edificio di Daneri che è vincolato da subito ai sensi della sei tre tre per un lunghissimo arco temporale stiamo arrivando al duemila non cambia nulla piano piano invece iniziano a spuntare altre opere tutelate e queste altre opere tutelate scendono nel sud della penisola piano piano quindi eh man mano si capisce che questo è uno strumento utile e e si può utilizzare e altra eh nota eh decennia di realizzazione numero opere tutelate naturalmente le opere degli anni cinquanta e sessanta più studiate più pubblicate più conosciute hanno più facilmente ottenuto la tutela è chiaro che è più difficile per le opere eh appena realizzate che eh si possa procedere in maniera snella eh con questo iter procedurale eh nel caso di numero otto opere su cinquanta quattro le istanze sono state presentate dagli eredi non sono tantissime ma è una cosa da sottolineare proprio perché in molti casi questo eh ha costituito un problema per l'iter procedurale alcune volte eh è andato tutto liscio altre volte invece eh la ehm la questione di cui ci già parlava eh Giulia Dore della appunto eh della difficoltà di definire il carattere artistico che cosa è trasmissibile agli eredi? Ecco apriamo questo punto poi magari ne parleremo più eh più approfonditamente dopo eh tra l'altro ehm moltissimi moltissimi casi eh la l'istanza è eh partita quando le opere erano già ehm minacciate a volte da interventi di manutenzione e ristrutturazione demolizione e ricostruzione in corso di approvazione presso gli antipreposti quindi una sorta di tutela per arginare il danno diciamo così e non eh messa in atto prima dell'Istituto eh Marchiondi Spagliardi si è già parlato eh tutelato eh un progetto eccezionale del Politecnico che però purtroppo non si è potuto eh portare a termine faccio semplicemente scorrere una serie di edifici che hanno ottenuto eh la la tutela ai sensi della sei tre tre quando già eh stava succedendo qualcosa quindi eh eh ci si è diciamo appellati per anche per chiedere aiuto rispetto ad interventi che non erano consoni eh in questo caso ad esempio eh seppure questo edificio non è particolarmente noto e quindi la direzione generale avesse inizialmente dichiarato la documentazione insufficiente però c'è stata una mobilitazione della eh collettività e della comunità scientifica tale eh per cui poi si è riuscito a ottenere la tutela quindi già anche di questo si è parlato di quanto la comunità e la collettività eh possano partecipare o meno vado velocissima sono quasi alla conclusione eh questo è un caso ieri eh Ugo Carugui diceva ci dobbiamo trasformare in killer uccidere gli gli autori e poi si ottiene la tutela in questo caso invece è successo che Giancarlo De Carlo ha presentato ha fatto in tempo a presentare l'istanza ma poi purtroppo è eh venuto a mancare prima della eh pronuncia sulla richiesta di vincolo e quindi è subentrato io eh vado veloce perché tutto è eh online e tutto è stampabile quindi se vi interessano questi casi vi eh vi invito a approfondirli eh presento solo molto brevemente ma insomma sulla colonia Marina Enel ci sarebbe tantissimo da dire e eh lo stesso sul centro civico di Segrate ci sono esempi virtuosi in cui invece l'opportunità di attuare lavori di restauro è interpretata come possibilità di affinare metodi e tecniche di intervento sull'architettura contemporanea il Gavina altri eh edifici che sono stati sulle pagine dei giornali scusate non sono vicino al microfono abbastanza e eh infine eh due eh ultime note e chiudo la prima è alcuni procedimenti hanno riguardato opere contemporanee insistenze su insistenti su presistenze storiche di pregio quindi c'è un ampliamento eh del dell'arco eh di interesse del contesto di applicazione della tutela del diritto d'autore perché ci si inizia a a domandare eh che cosa devo tutelare solo l'edificio presistente già vincolato oppure anche l'intervento di architettura contemporanea quindi questo è un altro tema su cui eh bisognerà tornare a discutere questi sono tre esempi e eh l'ultimo è invece procedimenti emanati per la conservazione in sito delle opere e parlavamo delle Vatican Chapels che all'inizio sono eh approvate come collocazioni temporanee e poi vengono invece considerate come architetture compiute e valutabili quindi diciamo si include anche tutta quella parte di architetture eh che che eh oggi sono molte che eh vengono realizzate con eh appunto finalità temporanea e anche allestimenti ecco dico questa parola allestimenti bisognerà riflettere anche su questo e chiudo qui perché ho poco tempo e spero che nel dibattito usciranno fuori altri temi su quanto accennato grazie a Maria Clara Ghia che ci ha parlato ancora più in maniera più specifica della legge sul diritto d'autore delle possibilità di questa norma adesso passiamo a diciamo invece ancora una volta al al tipo di vincolistica eh appunto da codice eh quella dell'interesse culturale che di cui ci parla adesso eh in maniera un pochino più specifica Maria Vittoria eh Clarelli Marini Clarelli che è direttore del servizio terzo della direzione generale creatività contemporanea. Sì purtroppo Esmeralda Valente non è qui oggi ma abbiamo condiviso con la collega della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio questa eh quest'elenco e eh ringrazio molto le relatrici precedenti perché hanno fatto un quadro veramente eh al tempo stesso ampio e dettagliato della della materia eh io ho eh fatto scorrere adesso velocemente i eh gli articoli di legge perché il tutto inizia con la legge mila ottantanove del trentanove e avremo un cambiamento della soglia cronologica e un cambiamento eh del rapporto tra ciò che rientra e non rientra però potete già vedere che nella legge del trentanove eh ci sono eh le cose di cui è l'articolo due che non hanno una limitazione cronologica quindi quella che diventa poi la lettera D nasce all'interno di questa norma. Abbiamo poi nel novantanove il testo unico che può intervenire relativamente come sanno i giuristi ma deve con una delega eh parlamentare molto limitata riordinare le norme però a questo punto eh l'elenco comincia a diventare unitario quindi quella che prima ehm definivamo eh una situazione indivisa su due articoli si eh eh conforma ci serve anche per capire gli archi cronologici di applicazione di queste norme. Infine abbiamo il codice dei beni culturali il decreto legislativo quarantadue che per quanto riguarda la nostra problematica ha avuto due fasi ne ha avute molto di più come sanno bene quelli che se ne sono occupati però c'è stato un prima e dopo il duemila e undici con la soglia cronologica che si è spostata da cinquanta a settanta e come vedete ehm la eh parte relativa alla lettera D come voleva la milleottantanove è rimasta fuori ma la lettera D diceva bene eh eh Giulia Dore non nasce con un qualche riferimento all'architettura contemporanea nasce soprattutto per tutelare ciò che non ha una qualità definibile e quindi è stata usata con qualche sforzatura. Questo è l'elenco dei vincoli abbiamo usato questo termine sintetico perché le norme sono cambiate per epoca quindi abbiamo sei milleottantanove quattro anzi per i pochi anni che è durato il testo unico sono tanti e poi abbiamo eh dei picchi mh relativi ad alcune ad alcune date ad alcuni ad alcune situazioni la lettera D in realtà eh ricorre cinquantasette volte su centosette perché ehm eh non abbiamo diciamo abbiamo separato quest'ultima eh quest'ultimo orientamento dal duemiladiciannove alcune sovrintendenze partendo dai vincoli di Ivrea hanno pensato di mettere insieme la lettera e la lettera D quindi la qualità e la norma che consentiva di non operare con quella soglia cronologica. Naturalmente stiamo su come l'amministrazione ha usato le norme per perseguire dei fini che non erano esattamente quelli che aveva in mente il legislatore. Abbiamo anche una eh indicazione per anno quindi vediamo che succede e quindi vedete il prima il dopo l'anno del piccolo duemiladiciannove eh perché ci sono eh i vincoli di Ivrea e eh alcuni eh riferimenti perché io qui ho evidenziato eh il podio cioè i primi tre e come vedete ci sono alcuni alcuni anni particolari. Eh c'è anche una eh possibilità scusate qui il fatta di notte Giuseppe è venuto eh un po' come dire dislessico ma ehm ci serviva eh prendere un campione di questi vincoli ex milleottantanove abbiamo preso le case Samona a Cefalù eh per cui il è un decreto assessorile e l'assessorato della regione siciliana si è ingegnato tra l'altro questo vincolo è online perché la regione siciliana l'ha pubblicato eh per prendere l'insieme delle case di questa famiglia compreso il grande parco e chiaramente ha vincolato anche la villa quindi ha ha operato nel millenovecentottantaquattro in maniera piuttosto lungimirante. Ehm e questo è uno uno eh vedremo anche l'altro caso dei casi maschili perché io come sapete cerco di tirare fuori architetture di donne perché sono recessive. Allora nel duemila e due eh la direzione generale ad Arca, direzione generale per cittura e l'arte contemporanea di cui noi ora siamo gli eredi è stata istituita operativamente da quel momento come vedete la situazione è diventata regolare perché l'interesse è anche l'anno in cui è partito il censimento però diciamo cominciando come abbiamo visto in questi giorni in forma breve abbiamo il picco delle Vatican Chapels quindi come è stato detto prima e abbiamo un picco nel duemila e sei a Urbino quindi il decreto è unico quindi non siamo sono diventati sessanta rispetto a quelli di 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 Maria Clara Ghia perché c'è la casa del fascio a Como che non è dal quarantacinque in poi l'abbiamo tolta c'è un annullato e poi ci sta questo decreto che in realtà vale per vale plurimo perché tutti gli edifici dell'università di Urbino sono stati poi oggetto di singole schede. Ecco questo è il primo eh evocato prima è il primo caso di applicazione della legge sei tre tre quindi a Genova Daneri Lucchiese quasi immediatamente è un decreto del millenovecentocinquantacinque eh mi sorge l'obbligo di citare colleghi che si sono occupati della legge sei tre tre nella nostra amministrazione eh Maurizio Pesce che oggi non ha avuto la possibilità di partecipare eh Maria Agostiano che ha ricostruito l'archeologia di questi procedimenti ed è qui con noi invece Simona Gervasio che è la massima esperta al momento di questo di questo argomento e eh una donna per le Vatican c'ha per l'unica l'unica che c'era tanto per evocarlo e adesso stiamo facendo un confronto tra i due per tipologia quindi vediamo che eh le abitazioni comuni familiari prevalgono eh sui decreti eh di dichiarazione di importante interesse eh e ci sono anche diversi edifici di culto edifici per attività produttive per spettacolo eh infrastrutture e musei eh molti edifici per spettacolo sulla sei tre tre che anche una eh percentuale elevata di eh di scuole e università. Eh qui eh abbiamo una ripartizione per regioni e ci sono dei casi significativi in Piemonte e Ivrea ma sarebbe diciamo togliendo questi diciamo questi undici edifici comunque in testa la Liguria è molto significativa e qui sarebbe un bel approfondimento da fare perché anche cronologicamente c'è una regolarità di intervento molto interessante nel Veneto ci sono picchi in tutti e due i fronti quindi vedete poi ci sono solo il Molise non ha nessun nessun esempio l'Abruzzo ce n'ha uno eh che è l'auditorium sirena di di Francavilla Marittima è uno solo gli altri hanno tutti una certa distribuzione questo è un dato interessante io sto sempre lavorando sul censito poi c'è un numero considerevole di vincoli che riguardano opere che non sono sul censimento quindi eh oggi per esempio a parlando del Trentino dell'Antoagis si è detto che c'è stata la scelta di non inserire quelle quelle vincolate abbiamo dei casi nei quali eh noi ora stiamo valutando se inserire alcuni beni eh per esempio eh ecco adesso vi ho preso qualche qualche caso di eh questo vincolo per esempio questa è eh la casistica delle dievisticioni familiari stiamo tornando sulle sulle donne però ci sono diversi eh esempi anche di ehm eh procedimenti che riguardano luoghi che non hanno di per sé un interesse per la storia della scrittura contemporanea ma ce l'hanno per quello che sarebbe il patrimonio immateriale a Caserta c'è il circolo eh Cine Club dove si riunivano i Servillo per dire e qui non è rilevante però stiamo discutendo con la sapienza sul cinema America che ha avuto ben due provvedimenti uno di diritto d'autore e uno di tutela eh un'opera di Angelo Di Castro che non era nella selezione iniziale tuttavia avendo formato interesse anche di una sorta di mobilitazione pubblica e ci sono altri casi di questo tipo abbiamo qualche esempio di grandi nomi che nella regione di appartenenza non compaiono ma questo è un po' il quadro generale eh per chiudere eh sulla situazione Luca Maggi ha evocato l'articolo trentasette che era associato a una eh disponibilità economica presunta del ministero a favore del proprietario questa disponibilità non si è mai attivata nessun provvedimento ai sensi del trentasette che è stato adottato dal duemila e quattro oggi grazie ringrazio Maria Vittoria Clarelli anche per eh la capacità di sintesi su argomenti effettivamente molto ampi ecco che quindi eh ecco se no Claudio non trovate allora invito ecco adesso a parlare il professor Varagnoli che da tanti anni poi ha eh diciamo lavora su queste tematiche con eh le nostre strutture i nostri istituti. Allora vado avanti con questo suppongo. No. Ne approfitto intanto per spiegare un attimo questa mia partecipazione. Eccoci qui. E dunque ehm grazie naturalmente a tutti gli organizzatori ehm lavoro possiamo dire come consulente presso la direzione generale per eh l'applicazione della sei tre tre. E come è stato detto giustamente anche qui cerco di sintetizzare al massimo la questione non è soltanto la faccenda sul diritto d'autore quanto il riconoscimento dell'importante carattere artistico che è quello che è forse ancora più importante, cogente e pressante quando questi istruttori arrivano al nostro comitato. Comitato formato da quattro persone oltre a chi vi parla vorrei citarli Gianandrea Barreca, Francesca Canfora, Denise Tamburrino nel primo ehm triennio in cui abbiamo iniziato a lavorare come consulenti per la commissione o per la per la direzione e i Barreca, Canfora e Baragnoli stanno iniziando adesso il secondo triennio, siamo in attesa anche della nomina del quarto componente. Eh di che eh ci siamo occupati appunto di questo tema del fatto della del riconoscimento dell'importante carattere artistico perché come è stato specificato prima eh nelle opere di architettura eh l'architetto non può opporsi alle modifiche a patto che appunto non sia riconosciuto questo importante carattere artistico. È fondamentale perché questo sposta io cerco sempre di impostare anche poi discorsi più ampio riflessione sul restauro, sulla conservazione dagli aspetti strettamente materiali a quelli in qualche misura immateriali perché l'architetto può eh rioperare, riintervenire sulla propria opera quasi riaprendo il progetto in qualche modo. Questo è un fatto per noi estremamente interessante, c'è tutto un filone che insiste in qualche misura sul ritorno sulla comunque la preponderanza di certi aspetti immateriali anche nella tutela, no? Qui ho voluto ricordare una frase molto interessante di Massimo Severo Giannini che proprio eh già negli anni ottanta sosteneva questo aspetto e l'ho anche trattato in un di di miei contributi che eh hanno lavorato un po' su queste su queste considerazioni. Quindi eh ragionare sull'applicazione della sei tre tre significa anche vedere quali sono i confini che e questa applicazione pone al grande tema della conservazione e del restauro. Anche vedendo quali possono essere le conseguenze su un punto di un piano più generale. Ehm è stato detto giustamente che si tratta di una legge non adatta alla in prima istanza perché non è stata pensata per questo alla tutela e eh alla concezione di tipo vincolistico. Ehm è giustissimo fortunatamente eh e qui ringrazio gli architetti Gervasio e e Notar Pietro per averci poi supportato in tante operazioni. Ehm ovviamente ci eh atteniamo ad una serie di criteri che sono stati quelli gli stessi poi utilizzati nella catalogazione eh ma eh questa applicazione naturalmente richiede anche diciamo una comprensione più basta del tema. Allora si trattava si tratta di utilizzare uno strumento eh forse imperfetto cerchiamo di metterlo a frutto in modo da avere delle soluzioni eh più eh onnicomprensive e se possibile più dense anche di conseguenze per il futuro. Ehm non mi soffermo tanto sui criteri di cui già si è parlato altre volte eh naturalmente per essere inserita per essere riconosciuta dai sensi della S333 eh devono essere rispettati almeno tre di questi criteri. Ehm vedendo le opere che sono state sottoposte alcune una carrellata è stato parlato più volte delle Vatican Chapels che è stato forse il caso più evidente più eclatante all'inizio eh ricordo che si tratta del padiglione di uno stato ehm eh straniero all'interno della 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 Biennale di Venezia del duemiladiciotto eh al come sapete ehm all'interno della fondazione Cini nell'isola di San Giorgio una serie di padiglioni temporanei qui vi faccio vedere anche alcune immagini recenti che vi fanno vedere lo stato di conservazione quindi ci siamo posti subito il problema di una eh no prolungamento di questo tema al futuro e e e quindi abbiamo cercato di ragionare anche su il senso da dare all'applicazione della S333 la cappella di Norman Foster che oggi però è così giustamente perché è concepita per essere eletta nel tempo e con quest'ottica che noi abbiamo ragionato appunto anche sull' applicazione il bellissimo interverso di Carla Ciuassava che è stato ehm poco fa eh è stato richiamato ma capite bene che questo sta eh eh il valore di questa architettura risiede tutto in questo acciaio spazzolato e lucente che deve riflettere e fondersi nel contesto ecco la parola che per noi era importante Javier Corvalan che fa un intervento ehm che abbiamo visto tutti sulle riviste ma oggi si presenta in questo modo perché si tratta di pannelli di compensato piuttosto fragile ecco architetture fragili sono padiglioni e allora ehm Smiljan Radic con una cappella interessantissima ma eh oggi in condizioni sempre piuttosto buone grazie anche a questo vetro superiore opportunamente predisposto ma poi dobbiamo intervenire su un cemento gettato sul plastic bowl che ha questo effetto quindi naturalmente di difficilissima gestione in futuro allora la risposta è stata quella di ragionare anche proprio sulla lettera che il cardinal Ravasi aveva spedito al al ministero il parallelo con gli Sacrimonti sono architetture che vivono in un contesto in una stretta simbiosi con l'ambiente anche eh vegetazionale allora richiedere nella nostra eh risposta di estendere la tutela e la la cura più correttamente non soltanto la singola opera del progettista dell'archistar di turno ma farsi carico anche della gestione del verde della gestione degli ingressi della della cura della 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 vegetazione e se possibile anche rendere questo parco aperto al pubblico perché al momento in cui era stato presentato non lo era e e su questa qui vado avanti ecco il parallelo con i Sacrimonti che non è una nostra invenzione è altro tema che si era posto eh la questione dell'intervento di opere che insistono su presistenze e questo è il bellissimo esempio dell'ala meridionale del Battistero di Aquileia di Tortelli e Frassoni che ehm opera degnissima e di di alto livello ehm certamente eh alla quale è difficile negare un carattere artistico ovviamente come capito benissimo ma quanto di questa opera è frutto indipendente e quanto invece non vive in un dialogo continuo e intenso con il contesto e e anche questo dialogo può in futuro forza attenzione questo dobbiamo contemperare queste nostre esigenze con anche esigenze della videografia in fin dei conti qui stiamo condizionando una percezione di un certo contesto di altissimo livello ripeto ma è un conduzionamento di cui esserne in qualche modo eh consapevoli e quindi anche qui eh la l'area meridionale l'aula meridionale in realtà era già sottoposta ad un'area archeologica eh ovviamente già tutelata ehm parla di opere dell'asse tre tre giustamente prima giuratore lo sottolineava ma in questo caso si parla di un'interpretazione di un sito quindi anche qui è un aspetto che va assolutamente ehm capito nel contesto nel quale si cala e quindi anche il nostro la nostra risposta è stata in questo senso e ehm è stato richiamato poco fa una una caso che invece non è stato non ha avuto buona l'edificio per uffici la sede della RAS eh a Milano opera eh tra ehm Gio Ponti e Piero Portaluppi anche qui ecco qui riconoscimento è stato avanzato dagli eredi ehm suscitando tutta una serie di di problemi a seguito di questi problemi poi fra l'altro la nuova circolare del duemila diciannove ha richiesto che l'istanza di riconoscimento del diritto dottore possa essere eh presentata soltanto dall'autore e non dai suoi eredi e comprensibilmente ma anche qui oltre a difficoltà procedurali d'accordo ma insomma eh la 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 questione si poneva sul fatto che eh diciamo la parte eh contraria aveva sottolineato che il delerificio rimaneva pochissimo perché gli interni erano stati tutti completamente stravolti e dimenticando che poi in realtà all'esterno aveva una sua validità una sua forza fra l'altro sottolineo ecco qui con l'aiuto della sovrintendenza di Milano eh era uscito fuori questo aspetto molto interessante la collaborazione con Luigi Crema all'epoca per definire l'altezza del corpo del centro meccanografico disegnato da Porta Luppi in relazione alla chiesa di San Paolo Converso quindi con tutta una eh ricchezza anche qui una volta di rimando a un contesto in questo caso sia urbanistico ma anche storico culturale che eh insomma eh non poteva essere distrutto soltanto perché gli interni erano stati eh manomessi la presentazione sulla rivista ovviamente di Gio Ponti ma Gio Ponti è eh architetto e critico militante e quindi non ci sembrava il caso che bastasse la devastazione per gli interni per permettere la eh profonda eh manomissione di questo testo così importante segnava che Gio Ponti aveva pensato a questa terminazione rastremata lo dice espressamente nel suo articolo per impedire la sovraelevazione del corpo e vedete qual è il risultato dei SOM poi fra l'altro Schirmo, Romich e Merrill non sono certo gli ultimi architetti sicuramente potranno pensare a qualche altra soluzione e qui ritorno al tema della qualità dell'architettura che certamente in questo caso è assolutamente eh di rimento e qui vedete una serie vedete il centro meccanografico insomma sono immagini che chiaramente potete eh vedere e commentare da soli e volevo anche ritornare sul discorso che questo è un episodio importante della ricostruzione di Milano nel secondo dopoguerra e concepito con un senso di città assolutamente incontrovertibile assolutamente attuale per molti aspetti eh altri due casi eh la colonia marina Francesco Sartori anche questo è un discorso che rimane al contesto ehm opera felicissima di un architetti di un ingegnere minerario tra l'altro non so se nel nostro censimento sono inseriti anche gli ingegneri o soltanto gli architetti questo lo dico a mo' di di provocazione naturalmente e Giovanni Rolandi personaggio assolutamente a me sconosciuto ma l'opera mi sembra particolarmente felice abbandonata al degrado in questo modo eh progetto di trasformazione che non vi faccio vedere di un resort di lusso eh con un aumento piano naturalmente e quindi con l'aumento della superficie utile ehm anche qui eh ovviamente eh il progetto è stato fortunatamente respinto sia dal parco geominerario sia dalla sovrintendenza e ehm però l'edificio aveva questa gravissimo stato di conservazione per l'altro c'è tutto l'aspetto di 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 lo asir che è molto interessante e e già questo è degnissimo di una di una di un'attenzione particolare e anche qui la nostra attenzione è stata quella di riconoscere sebbene ridotto allo stato di rudere con tutto questo che con tutto il carico che questo comporta di riconoscere il carattere eh artistico e e questa è stata la base poi affinché la sovrintendenza ha potuto poi imporre un provvedimento diretto. Stiamo concludendo con gli ultimi due casi che non sono arrivati ma che avrei voluto vedere sulla nelle nostre riunioni eh la ehm opera di Emanuele Fidone il mercato eh di Ortigia eh come vedete trasformato in eh non so bene che cosa ma con grosse carenze di manutenzione con trasformazione di intonaci e l'autore eh aveva provato a portarlo all'attenzione al comitato ma eh passando per la sovrintendenza siciliana poi è stato bloccato perché eh in Sicilia c'è una un diverso regolamento ed è una delle delle assenze eccellenti diciamo di questo nostro incontro e la casa dello studente di Chieti questo lo dico anche ricordando le cose che succedono vicino a me eh edificio come sapete di Grazia e Monestiroli due stecche una compiuta l'altra no l'altra incompiuta e viene demolita perché tanto ne basta una e quindi sul posto di quella eh demolita oggi si si sta progettando un nuovo edificio del tutto avulso dal contesto probabilmente ecco qui riprendere il carattere immateriale di questo progetto avrebbe avuto senso e vi lascio a parte le conclusioni anche io volevo richiamare la convenzione di Faro il ruolo della manutenzione discorsi che abbiamo già fatto e quindi non mi fermo ma vi lascio con una bella opera poetica l'ultimo l'ultima sentenza diciamo della nostra del nostro comitato un'opera di Christiane Leur cylinder form che è una eh grosso cylinder form che è una composizione di ehm steli d'erba che è stata acquisita da un importante museo italiano sulla base del regio decreto del tredici e qui in questo caso ehm richiediamo anche i pacta che non so se sapete sono i piani per garantire la autenticità la cura la tutela dell'arte contemporanea mi chiedo se qualche cosa del genere non possa essere fatto anche per l'architettura molte grazie 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 grazie